Buongiorno maestro, grazie a voi per scrivere l'Incerto e per mi rendere un addiccio al weightlifting. Con il caffè e con la bricca è importante che scegliere un caffè che scegliere per la moca, perché se scegliere per l'espresso, la pressione non sarà sufficiente per extratire il caffè. La macchina di espresso ha una pressione più alta di stima e quindi bisogna un caffè che scegliere molto più fina. Per la moca è più corso. Ora inizio la mia bricca con il caffè che sceglieremo e vedremo cosa succederà. Ok. Quindi maestro, potete vedere che le bubbi stanno all'interno del caffè e che stanno precipitando. in un po' di minuti, il caffè del caffè si diventano completamente nero e sarò con la parte superiori della crema. Questa è 100% arabica e quindi va a avere meno faam e la faam si durerà meno nella caffè del caffè Con la crema di arabica e robusta, avrai un po' di meno faam. Quindi una forma di cominciare è trovare un caffè che sia una crema di arabica e robusta che ti piace e che faam facilmente. Perché ho capito che non hai una scelta per avere un più piccolo faam e il controllo del caffè può essere un po' di problema. Quindi ora sto drinking. Ecco qua. So, have a great coffee maestro. See how it's black, you can't see through. And grazie, thank you again.